E' stata ritrovata una delle due scatole nere dei caccia tornado distrutti nell'incidente avvenuto sopra le colline di Ascoli Piceno. Nel terzo giorno di lavoro le ricerche si sono concentrate sulla collina di Poggio Ansù, a poca distanza da quella del ritrovamento dei due corpi degli ufficiali dell'aeronautica militare impegnati in un volo di esercitazione lo scorso 19 agosto. La collina, battuta, porta i segni delle fiamme che hanno distrutto gran parte della vegetazione, al lavoro ci sono oltre 70 uomini. L'ipotesi prevalente per lo scontro tra i due tornado militari è l'errore umano. A farlo sapere fonti investigative al termine di un incontro con il PM Umberto Monti che coordina l'inchiesta. La procura acquisirà, oltre ai tracciati radar e ai piani di volo dei due velivoli, uno storico di piani di voli precedenti sulla stessa rotta. Intanto la magistratura scolana ha ricevuto una prima relazione dall'aeronautica militare sul disastro. Le ricerche degli altri due piloti ancora non ritrovati proseguiranno fino al ritrovamento o almeno fino a che non avrà più senso portarle avanti. A farlo sapere le fonti dell'aeronautica militare. Nella giornata di oggi l'emergenza è stata quella degli incendi, a riattivarsi alcuni focolai sulla collina di Tronzano. Incendio alimentato dal vento che non cessa di soffiare rendendo ancora più difficoltose le ricerche. Intanto gli uomini dell'aeronautica insieme alla guardia forestale, ai vigili del fuoco e alle squadre di alpini hanno perlustrato tutta la collina dove si è verificato l'impatto. E proprio sulla collina di Poggio Ansù sono stati ritrovati i resti dell'altro caccia e probabilmente sempre lì era sepolta anche la scatola nera. A rendere più certo il sospetto l'arrivo di un ufficiale dei carabinieri, un maggiore che ha incontrato il responsabile dell'aeronautica. Dopo la discesa delle decine di uomini dalla montagna infatti sono arrivate numerose squadre e mezzi militari sul posto. Poi si è diffusa la notizia. Sulla dinamica dell'incidente si alternano più versioni. Oltre alla prima, quella che vedrebbe la collisione tra il primo e il secondo velivolo dovuta a una virata del primo alla quale è seguita la collisione del secondo, ora alcuni parlano di un aereo esploso e di un altro, integro, che lo ha sorvolato a bassa quota infilandosi sotto i fili elettrici per schiantarsi sul fianco della collina. Tra le ipotesi l'avaria o l'errore umano. Secondo l'aeronautica militare non risultano violazioni alle norme della navigazione aerea e i piani di volo sarebbero stati rispettati. Nella giornata di ieri ad Ascoli c'è stata anche la visita del capo di stato maggiore dell'aeronautica militare generale di squadra aerea Pasquale Preziosa, che ha partecipato a una riunione presso la prefettura. Intanto la procura di Ascoli, in parallelo con la procura militare di Verona, ha avviato un'inchiesta per disastro aereo colposo. La procura militare di Verona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti relativo alla distruzione di beni militari. A confermarlo il procuratore militare Enrico Buttita, che coordina le indagini. Saranno sentiti alcuni ufficiali dell'aeronautica e verranno acquisiti documenti per cercare di fare luce sull'accaduto. È intenzione del magistrato militare raccogliere quanti più elementi utili alle indagini, testimonianze, foto, filmati, piani di volo e dati di controllo del traffico aereo, oltre alle scatole nere dei velivoli. Intanto continuano le ricerche degli altri due piloti, ancora dispersi, e fonti dell'aeronautica dicono che nessuno si sente di dire che non vi siano sopravvissuti, per quanto le speranze diminuiscano di ora in ora.